Noi non possiamo vedere le espressioni del nostro viso mentre parliamo, non so se ve ne siete accorti. Quando parliamo con qualcuno esprimiamo le nostre emozioni, sia mentre parliamo sia mentre lo ascoltiamo. Occhi e bocca esprimono un'immensa gamma di emozioni, le risate, la rabbia, il disgusto, la gioia, la stizza, la tristezza, la contrairetà, persino l'empatia. E ognuna di queste emozioni ha un suo correlato espressivo negli occhi, nelle sopracciglia, nella bocca e persino nel colorito. Ma noi tutto questo non possiamo vederlo in noi stessi, altrimenti ci conosceremmo meglio. Non so se vi è mai capitato di partecipare al gioco dello scambio di ruolo, è un gioco che si fa soprattutto nei gruppi. Qualcuno incarna il tuo ruolo e agisce come vede agire te, parla come te, insomma ti imita. La cosa che ho sempre notato in questo gioco è che chi osserva l'altro se stesso, l'imitatore, spesso rimane sconcertato e rifiuta l'interpretazione data di sé. Mi è capitato molto spesso quando nelle scuole faccio dei gruppi, classe e c'è sempre qualcuno che si fa notare. Allora quando vedo questa persona spesso metto in atto il gioco di ruolo per mostrare a questa persona come si comporta all'interno del gruppo. Nella vita non incontreremo chi ci imita, però è vero che gli altri si calibrano su di noi. Che cosa vuol dire? Dunque sarebbe utile se potessimo girare con uno specchio davanti e osservarci in modo da renderci consapevoli delle nostre espressioni, delle nostre parole, dei nostri pensieri. Potremmo migliorarci. Ecco perché quei ragazzi è bene che facciano il gioco di ruolo in modo che capiscano che cosa stanno mettendo in atto. Ma la natura non ci ha provvisti di uno specchio come quello che abbiamo in casa, ma in realtà la natura ci ha fornito un altro specchio in carne ed ossa, proprio uno specchio uguale a noi, con una testa, degli occhi, delle braccia, delle gambe, eccetera. E sono gli altri, gli altri sono il nostro specchio e gli altri ci imitano, cioè nel vero senso della parola fanno qualcosa di simile a quello che facciamo noi quando parliamo, quando entriamo in interazione con loro. Questo si chiama calibrazione. Quando parliamo con gli altri spesso attuiamo una calibrazione reciproca. Ad esempio se l'altro parla a bassa voce lo facciamo anche noi. Oppure se tu parli velocemente è probabile che anche l'altro lo faccia. Se l'altro cammina con te e ha il passo svelto anche tu avrai quel passo svelto. A me capita spesso, quando incontro delle persone nel mio studio, l'accavallamento delle gambe è a specchio. Se io accavallo la gamba a destra, l'altro l'accavalla a sinistra, a specchio. Anche nelle coppie succede, dopo un po' di tempo che si frequentano, si comportano nello stesso modo, cioè si somigliano in qualche modo. Io ho due fratelli e due sorelle e spesso mi sorprendo quando vedo in loro le mie stesse espressioni, anche quelle che meno mi piacciono. Quando l'altro ci fa da specchio noi possiamo vedere ciò che ci piace e ciò che non ci piace in noi. Quindi quello che vi consiglio è di guardare gli altri, di osservarli per vedere un po' anche chi siamo noi. Questo dato ti può servire sul lavoro se vuoi capire meglio e migliorare il tuo rapporto con i tuoi colleghi o con i tuoi superiori. E per questo video è tutto, se ti è piaciuto il video clicca su mi piace, attiva la campanella ma prima iscriviti e io ti do appuntamento al prossimo video e ti saluto con un bel ciao!